Buon pomeriggio e ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari apriamo il nostro telegiornale con la festa di San Nicola fin dalle prime ore di questa mattina migliaia di baresi hanno affollato la basilica e le vie della città vecchia riviviamo insieme i momenti salienti della giornata nel servizio il via vai nei vicoli, la tradizionale cioccolata calda e la santa messa che apre la festa Bari si è illuminata fin dalle prime ore del giorno in onore di San Nicola i migliaia hanno reso omaggio al santo patrono affollando la città vecchia la lunga giornata è cominciata alle 4 con l'apertura delle porte della basilica e il suono delle campane un'ora dopo la santa messa prima di una lunga serie preseduta da padre Giovanni Distante fedeli, curiosi e turisti hanno fatto colazione gustando i prodotti della tradizione dolci, pettole, manche sgagliozze accompagnate dall'immancabile cioccolata calda la città è tornata a vivere dopo la pandemia di covid che ha in parte stoppato le antiche usanze del 6 dicembre finalmente dopo le restrizioni torna San Nicola la città vecchia ha aperto le porte, le finestre al nostro santo patrono che è sicuramente un monumento della chiesa però è anche un po' patrimonio dell'umanità grazie ai suoi messaggi di fratellanza, di accoglienza, di pace in questo momento particolare anche quel ruolo di San Nicola quella dimensione anche internazionale, geopolitica, di collegamento tra l'Oriente e l'Occidente tanti i baresi che hanno reso omaggio al santo chiedendo la pace nel mondo e la fine dei conflitti armati pace, pace, gridava la gente questa mattina durante una fiaccolata che si è snodata in città e noi vogliamo che la pace si realizzi e se noi ci lasciamo accompagnare da San Nicola farci prendere per mano da San Nicola allora qualcosa senz'altro si potrà realizzare e penso anche in un prossimo prossimissimo futuro i migliaia hanno affollato il piazzale antistante la basilica imbattendosi in Paolo Caradonna geometra o meglio conosciuto come il San Nicola dei baresi un'occasione imperdibile per scattare una foto o un selfie e ricordare questa magica giornata la cosa bella è avere questo riconoscimento della cittadinanza per stare per una foto, per un ricordo di San Nicola i festeggiamenti in onore di San Nicola proseguiranno fino a questa sera alle 21 in programma la processione con la statua del santo mentre alle 21 e 30 ci sarà l'atteso spettacolo pirotecnico al molo di Sant'Antonio e noi continuiamo a parlare della festa di San Nicola scopriamo insieme quali sono le usanze e i prodotti tipici che caratterizzano questa ricorrenza tanto cara ai baresi folklore e tradizione abbracciano i riti sacri per cogliere al meglio la baresità è necessario respirare l'atmosfera durante i festeggiamenti di San Nicola i vicoli della città vecchia si accendono già dalle prime ore della mattina c'è chi comincia a friggere sgagliozze e pettole mentre le signore sono già al lavoro per preparare dolcetti e la tradizionale cioccolata calda dopo l'omaggio al santo patrono i baresi si ritrovano nelle case per fare colazione insieme un momento di convivialità che si tramanda di generazione in generazione e poi a Barivecchia è proprio che oggi si tengono i familiari a pranzo perché quelli che vengono da fuori noi di Barivecchia non li facciamo andare le sorelle e noi abbiamo sempre ospiti qui a Barivecchia uno ospite abbiamo perché a noi è peggio di maggio il giorno oggi è più forte di maggio il Natale barese parte il 6 dicembre nelle abitazioni del centro storico sono già in preparazione i dolci tipici dalle cartellate ai biscotti al burro rigorosamente in versione natalizia le cartellate sono in parecchie cose cambia chi le fa tutta semola chi le fa tutta farina e chi le fa metà metà io faccio metà semola e metà farina perché vengono bene poi con il vino cotto io preferisco quello di fichi perché quello di fichi è molto più dolce e va con le cartellate poi ci sono le paste reali che sono le paste più belle, più buone che sono fatte di mandare e di zucchero e noi restiamo in tema questa mattina il sindaco De Caro ha ricevuto a Palazzo di Città il duo artistico di Rò composto da Vincenzo Di Cillo e Patrizia Rossini durante l'incontro è stata donata un'opera dedicata a San Nicola realizzata in rame trattato e turchese è alta 40 centimetri inquadrando il QR code annesso al certificato di autenticità del manufatto è possibile ascoltare un testo inedito affidato alla voce dell'attrice Caterina Firinu e adesso ci occupiamo del Natale a Bari presentate le iniziative del secondo municipio i dettagli nel servizio di Roberto Maggi Sarà un Natale diffuso quello barese un ricco calendario di appuntamenti Parco Rossani centro del programma con spettacoli, mercatini e illuminari e il municipio 2 presenta gli eventi per il mese di dicembre tutto il periodo natalizio quest'anno vedrà infatti un susseguirsi di iniziative che non riguarderanno solo il centro città Poggio Franco, Carrassi, Mungivacca, San Pasquale saranno trasformati di nuovo in luoghi dove cercare e acquistare pensieri estrenne alimentando anche la ripresa economica delle attività di quartiere assieme agli eventi saranno allestite le caratteristiche casette di legno addobbate con ghirlande luminarie e riempite di articoli artigianali prodotti enogastronomici e le tipicità natalizie oltre questo è previsto un programma di spettacoli che vedrà tra gli ospiti tante cover band e anche artisti pugliesi come Renato Ciardo Lucio Smaldone, presidente del Municipio 2 accompagnato da Alessandra Batescianni presidente della Commissione Cultura del Municipio 2 e dai consiglieri Davide, Di Pantaleo e Loredana Battista ha illustrato il calendario quest'anno nel Municipio 2 abbiamo organizzato veramente tantissimi eventi non solo mercatini dell'artigianato mercatini di Natale ma anche veri e propri eventi culturali musica, teatro spettacoli per i più piccoli spettacoli di burattini spettacoli di magia qui siamo nel parco Rossani dove fervono i preparativi per la realizzazione di un grande villaggio di Babbo Natale abbiamo già le giostrine per i più piccoli lì stanno montando i gazebo per lo street food per i mercatali ma l'otto avremo tantissimi operatori dell'artigianato e anche delle installazioni luminose abbiamo pensato di realizzare anche qui nel parco Rossani un piccolo assaggio di luci di artista come quelle che si possono ammirare anche in altre città e finalmente offriremo qui ai cittadini barisi nel parco Rossani mi piace ricordare anche due spettacoli di teatrali uno presso il teatro dell'Angiuli uno presso il teatro Don Guanella tantissimi concerti e DJ set qui il 24 di dicembre invito tutti i cittadini a venire qui a parco Rossani per bere un aperitivo insieme e scambiarci gli auguri ed è arrivato il momento di collegarci con il nostro sito www.telebari.it con il nostro Tiziano Tridente Tiziano vengo da te sì eccoci Giuseppe oggi iniziamo dalla cronaca cittadina con un cassonetto dei rifiuti indifferenziati che ha preso fuoco ieri sera nel cuore del quartiere Libertà tra via Sagariga Visconti e via Bategimma le fiamme hanno colto di sorpresa passanti automobilisti evidentemente spaventati dalla circostanza tuttavia non è il primo caso di questo tipo nel quartiere Libertà negli ultimi mesi infatti diversi sono stati gli episodi di contenitori dei rifiuti dati alle fiamme o vandalizzati ci spostiamo poi a Molfetta dove alcuni ragazzini tutti minorenni armate di spranghe di metallo hanno seminato il panico sul lungomare danneggiando le auto parcheggiate minacciando i passanti è successo ieri sera e a denunciarlo è stato il sindaco Tommaso Minervini quello che è accaduto sul lungomare Colonna dice è inaccettabile intollerabile ingiustificabile le forze dell'ordine spiega ancora Minervini sono intervenute fermando quattro di questi delinquenti in erba autori di un vero e proprio episodio di guerriglia urbana cambiamo argomento e chiudiamo con il Natale a Polignano che entra nel vivo e l'ama Monachile il luogo tra i più fotografati della Puglia che si trasforma come l'incanto in un cielo stellato a ridosso del mare avvolta dalle onde già da qualche giorno e fino all'8 gennaio la scogliera simbolo di Polignano accoglie una suggestiva proiezione che si candida a diventare lo scorcio più pugliese più instagrammato delle festività natalizie a te grazie Tiziano e noi andiamo avanti con le nostre notizie la CGL ha annunciato lo sciopero generale per mercoledì 14 dicembre per protestare contro la manovra finanziaria del governo i dettagli nel servizio dall'emergenza salariale al superamento del reddito di cittadinanza dalle misure fiscali alle pensioni una manovra economica sbagliata e da cambiare secondo il sindacato CGL Puglia annuncia uno sciopero di 8 ore per la giornata di mercoledì 14 dicembre con una manifestazione regionale che si terrà a Bari al centro della protesta la legge di bilancio segnalata come irricevibile dalla CGL perché colpevolizzerebbe e punirebbe i poveri aumentando le precarietà premiando gli evasori e favorendo le iniquità del sistema fiscale il tutto senza sostenere salari e pensioni tra le misure previste particolarmente criticate sono il ripristino dei voucher e la flat tax a cui si aggiunge il superamento del reddito di cittadinanza dal 2024 così come la tassa piatta del 15% per i redditi di lavoro autonomo fino a 85 mila euro che indicherebbe una chiara volontà di smantellare la struttura progressiva del nostro sistema fiscale è una manovra di governo che sicuramente non tiene conto dei poveri che non tiene conto del disagio profondo c'è un accanimento nei loro confronti e invece si utilizzano risorse togliendole le pensioni per pagare i condoni per pagare una flat tax che aumenta fino a 85 mila euro una decontribuzione che invece noi chiediamo sia maggiore nei confronti di chi guadagna più soldi è stata presentata questa mattina Dante in Puglia serie audiovisiva di tre puntate creata ad hoc per la regione Puglia per celebrare Dante Alighieri e Nicola Zingarelli sentiamo le parole dell'idiatore dell'evento è un progetto che è nato partendo da una considerazione che quest'anno ricorre un doppio universario i 700 anni di Dante ma pochi sanno che è anche il centenario della pubblicazione del primo vocabolario di Nicola Zingarelli e quindi abbiamo provato a mettere in correlazione il padre della lingua italiana a cui dobbiamo l'87% delle parole che usiamo al padre del vocabolario che invece era Nicola Zingarelli Dante in Puglia è una trilogia di video di circa un'ora ciascuno in cui tutta la Puglia diventa a suo modo dantesca quindi ad esempio la foresta umbra diventa ricorda la selva oscura le saline di Margherita di Savoia e il bianco saranno associate al paradiso lo crotondo per via del suo cono tagliato al purgatorio Brindisi aprirà e chiuderà la puntata del purgatorio appunto come terra di mezzo o ancora Papa Celestino V fu arrestato a Vieste ma se quel Papa non fosse stato arrestato a Vieste la Divina Commedia probabilmente non sarebbe mai esistita perché lui non sarebbe mai andato in esilio o quantomeno non sarebbe l'opera che oggi conosciamo quindi Dante in Puglia vuole mettere insieme promozione del territorio e celebrazione di due grandi menti a cui dobbiamo molte delle parole che oggi usiamo e noi andiamo avanti decima edizione dell'esposizione internazionale Felina di Bari manifestazione ufficiale del libro genealogico del gatto di razza pregiata negli spazi del Di Palma Sport Club ce ne parla Raffaella Di Renzo Enrico Dalfino l'indimenticabile sindaco che si trovò a gestire il delicato sbarco della Vlora la nave che portò in salvo migliaia di albanesi era il 1991 un agosto a foso e drammatico lei che cosa ricorda? Beh ricordo molte cose prima di tutto perché è stato un avvenimento molto pesante molto pesante perché Enrico era a casa quando venne chiamato di corsa perché era arrivata questa nuova nave con questi profughi quindi ha dovuto prendere delle decisioni che erano all'opposto di ciò che voleva il presidente Cossiga lui ha deciso in maniera positiva di accogliere i Nafra ed è stato è stato penalizzato perché chiaramente Cossiga si è abbastanza vendicato Per non dimenticare Dalfino che cosa avete organizzato? Abbiamo organizzato un concerto in suo onore in sua memoria perché lui era molto amico dei ragazzi che adesso sono docenti del pentagramma e loro sono stati così carini che hanno voluto proprio offrire questo messaggio proprio di amicizia si tratta di un concerto innanzitutto in memoria di una grande persona che Bari non dimenticherà mai che è l'ex sindaco Enrico Dalfino in tale occasione però si approfitta insomma con la mia collaborazione collaborazione del Duke e del pentagramma per poter ricordare anche che ci sono dei piccoli animaletti che hanno bisogno di aiuto e adesso il momento delle notizie provenienti dall'area metropolitana di Bari e dal resto della regione andiamo a Trani dove questa mattina si è tenuta la dodicesima edizione del premio Giovani Talenti della fondazione Megamark un totale di 65 mila euro suddivisi in 46 borse di studio riservate ai fili dei dipendenti Megamark ce ne parla Massimo Pillera Siamo alla dodicesima edizione un sacco di giovani talenti come dire inseriti nella società Ma è stata una delle come dire attività premiare i giovani talenti di cui ne vado più orgoglioso perché effettivamente i giovani non è che abbiano questa posizione di privilegio nello scenario italiano governativo italiano questo per quanto ci riguarda noi diamo un piccolo contributo ad elevare o a fare a far fronte alle loro necessità perché la scuola costa le famiglie vanno sempre più in difficoltà ed è chiaro che la nostra società ha sempre ben a cuore queste persone questi giovani che si devono innamorare sempre di più del lavoro e devono dedicare sempre di più tempo qualitativo al loro futuro Ma è anche un investimento perché sono fili di vostri dipendenti che spesso tornano e rientrano in azienda Questa è la mia speranza diciamo così forte e chiara che si restano all'interno del sistema della mia azienda è una cosa che mi ineroglisce ancora di più però non diamo limiti siamo sicuri che il futuro è dei giovani e sono loro che devono scegliere la strada migliore e il percorso migliore e ci spostiamo a Putignano dove la ASL di Bari ha attivato un progetto di musicoterapia per ragazzi affetti da autismo e iperattivi ci spiega tutto Francesco Russo frutto di una convenzione tra ASL Bari e scuola di musicoterapia di Assisi felicemente in musica è il primo tirocinio attivato in Puglia a favore di bambini e ragazzi affetti da diversi disturbi del neurosviluppo subito prima e subito dopo del progetto sono stati somministrati dei test dalle nostre neuropsicomotriciste che hanno evidenziato effettivi miglioramenti nelle funzioni esecutive e nelle capacità relazionali il progetto svoltosi nella neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza presso il presidio San Michele in Monte Laureto di Putignano ha coinvolto piccoli pazienti tra 11 e 14 anni da agosto a ottobre le sedute sono state sia individuali che di gruppo durante le sedute individuali abbiamo lavorato con giochi di improvvisazione per stimolare le capacità emotive attraverso dei veri e propri dialoghi sonori mentre per quanto riguarda le attività di gruppo abbiamo lavorato con il ritmo per stimolare la turnazione l'attenzione e l'ascolto reciproco in particolare è utilizzato la body percussion che è una pratica che stimola la coordinazione corporea oltre al senso del ritmo infatti le attività ritmiche che tendono a migliorare le capacità di attenzione durante il tempo e la percezione della quantità hanno degli effettivi miglioramenti duraturi anche sulle sinapsi cerebrali Ci sposiamo ora a Taranto dove è stato presentato un progetto che prevede un camminamento ciclopedonale sospeso a 45 metri d'altezza ancorato al ponte Punta Penna ci spiega tutto Angelo Ingenito I ponti devono unire civiltà cultura e popoli questo è quello che ha detto Monsignor Filippo Santoro Orcivesco di Taranto intervenuto all'evento organizzato in occasione del 45esimo anniversario della costruzione del ponte Punta Penna Pizzone dedicato allo statista che lo inaugurò nel 1977 l'onorevole Aldo Muro Durante l'evento è stato presentato il progetto di un camminamento ciclopedonale sospeso a 45 metri d'altezza ancorato al ponte e del quale ha parlato l'architetto Alfredo Foresta Il progetto è una visione una visione che invita a un punto di vista che probabilmente sfugge perché è legato alla mobilità dell'auto affacciarsi dal ponte Punta Penna Pizzone è uno sguardo unico sia a 45 metri d'altezza in un equilibrio tra cielo e mare ma soprattutto tra due mari questa è l'innovazione il punto di vista io ho pensato a una passeggiata ciclopedonale ma è lo strumento che invita tutti i tarantini a guardare il proprio punto di vista e a trovare ciò che può essere progettabile io credo che Taranto sia una città magna perché ha tanti punti di vista poniamoci allo scorto e cominciamo a guardare questo territorio con occhi diversi perché anche un ponte pensato 45 anni fa per essere un mero trasportatore di mezzi può diventare un'opportunità e noi invece ci spostiamo a Lecce dove è stato presentato a Palazzo Adorno l'evento pro assistenza oncologica gratuita domiciliare ce ne parla Fabio Serino è stato presentato questa mattina Merk Hunt il progetto di raccolta fondi in programma dal 9 all'11 dicembre presso la chiesa di San Francesco della Scarpa a Lecce il progetto promosso dalla fondazione assistenza nazionale tumori di Lecce con il patrocino della provincia l'iniziativa propone tre ricche giornate con il mercatino tipico natalizio che accoglierà 30 artigiani ed eventi teatrali musicali laboratori e animazione per bambini Fondazione Ante è una onlus a livello nazionale noi assistiamo pazienti oncologici gratuitamente al domicilio quindi è un'assistenza domiciliare oncologica gratuita questo lo voglio sottolineare il nostro evento come tanti altri eventi che noi proponiamo servirà appunto a raccogliere fondi per promuovere e prolungare sul territorio questo tipo di assistenza domiciliare quindi accoglierà per due giornate il 10 e l'11 di dicembre il mercatino natalizio dalle ore 10 alle ore 21 orario continuato presso il San Francesco della Scarpa ex Convitto Palmieri per quanto riguarda i contributi noi diamo un biglietto d'ingresso che può essere prenotato alla sede Ante di Lecce tutti i contributi andranno a sostegno del progetto di assistenza domiciliare gratuita e di prevenzione oncologica questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale a tutti un buon proseguimento di giornata amici di Trebi Meteo un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni per mercoledì dalla sinottica europea notiamo l'approfondimento di una vasta area depressionale sul vicino atlantico che ha tratti con voglia aria umida anche sul Mediterraneo seppur in assenza di grandi perturbazioni tuttavia avremo ancora un po' di instabilità sulle regioni centrali dove insisteranno maggiormente le nuvole e sarà possibile anche qualche locale piovasco nel corso del giorno in particolare proprio tra Toscana Umbria Marche e Lazio infatti la cartina della previsione poi ci mostra un'Italia sostanzialmente asciutta sulle regioni settentronali e su quelle meridionali dove prevarranno anche ampie schiarite mentre insisterà un po' di instabilità con qualche piovasco a carattere sparso proprio sulle regioni centrali che localmente sarà anche temporalesco sulla Toscana attenzione a qualche banco di nebbia in Valpadana mentre le temperature diurne saranno ancora abbastanza gradevoli al sud con massime fino a 18-20 gradi con questo è tutto per maggiori dettagli vi rimando come di consueto all'app gratuita di Trebi Meteo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti